Sette ore per fatti innamorare si intitola così questo lavoro, questa opera cinematografica firma di Giampaolo Morelli che debutta in qualità di regista, regista più che affermato, capace di grandi cose, lo ricordo bene quando dirigeva l'ispettore Coriandro ma anche in Manetti Brosso e adesso in questa opera aulica di tipo cinematografico lui è il regista, vi ricordo, ma vi ricordo, vi informo del fatto che purtroppo questa opera non può essere, diciamo così, appressata nei cinema salta il cinema, salta la proiezione cinematografica, meglio nelle sale cinematografiche d'Italia e va, debutta subito in streaming nelle più importanti piattaforme un esordio piacevole, vincente, quello di Giampaolo Morelli in qualità di atti regista che piace non solo e convince ai più bene, tanti auguri di buona vita a Giampaolo Morelli, iscrivetevi al canale Narratore Italiano e al prossimo video Grazie a tutti